lo so che non fa aria però era solo per farvi vedere un esempio di moto circolare uniforme ciao ragazzi bentornati allora oggi dobbiamo vedere che cos'è il moto circolare uniforme che uno di quei moti possibili che i corpi possono avere molto particolari tra l'altro e che diciamo che rientra nell'argomento quello grande della cinematica che è quella parte della fisica che cerca di studiare praticamente il movimento dei corpi e il loro tipo di moto e i moti che possono avere effettivamente che cos'è il moto circolare uniforme allora è il movimento di un corpo che si muove lungo una circonferenza a velocità costante allora attenzione che però questa definizione che vi ho appena dato è tutta un po' da capire perché finché dobbiamo parlare di moto beh ci siamo è il movimento di un corpo è fin lì tutto ok se dobbiamo dirci che cosa vuol dire circolare vabbè vuol dire muoversi lungo una circonferenza quindi tracciare praticamente una traiettoria che è una circonferenza perfetta è fin lì tutto ok ma se ci dobbiamo dire esattamente che cosa vuol dire l'aggettivo uniforme e beh qui ci dobbiamo fermare un attimo perché dobbiamo capire esattamente che cosa significa allora io vi ho detto a velocità costante sì ma bisogna specificare un po' meglio che cosa significa velocità costante nel moto circolare uniforme allora piccola premessa la velocità è un vettore quindi ha tre caratteristiche modulo direzione e verso il modulo praticamente rappresenterebbe il valore numerico del vettore della velocità quindi se voi dite che mi sto muovendo con una velocità di 30 metri al secondo ok 30 metri al secondo è il modulo state parlando del suo valore numerico poi però c'è anche la direzione che è data dalla retta sulla quale il vettore giace e poi il verso che vi dice praticamente dove punta la freccia quindi se la retta è questa il vettore o è puntato da questa parte o è puntato dalla parte opposta questo è il verso dire che la velocità nel moto circolare uniforme è costante ci si riferisce con questa terminologia al fatto che il modulo è solo ed esclusivamente il modulo della velocità rimane costante cioè ciò che rimane costante davvero è soltanto il valore numerico della velocità quindi solo una parte del vettore velocità la direzione e il verso cambiano invece costantemente perché questo? perché se voi vi muovete lungo una circonferenza e quando siete per esempio in un certo punto la vostra velocità è inclinata in questo modo ma quando siete in un punto della circonferenza è diverso la velocità si è inclinata in un modo completamente differente ok? quindi la direzione del vettore sta cambiando continuamente perché segue la traiettoria curvilinea della circonferenza il vettore della velocità va disegnato come un vettore tangente alla circonferenza infatti si parla di velocità tangenziale ma la tangente alla circonferenza man mano che la circonferenza gira è una retta che va spostata ed inclinata continuamente quindi la direzione del vettore cambia sempre non rimane mai costante ok? quindi dire che la velocità è costante sì ma bisogna specificare che in realtà la velocità è costante solo in modulo cioè solo in una parte delle solo in una delle tre caratteristiche che contraddistinguono la velocità e in generale contraddistinguono tutti i vettori quindi il moto circolare uniforme è il moto di un corpo lungo una circonferenza dove voi vedete un corpo che cerca di muoversi con una velocità costante in modulo ok? allora esempio le pale del ventilatore che nel momento in cui iniziano a girare va e girano sempre con la stessa medesima velocità oppure la giostra dei cavallini quella tristissima è totalmente priva di divertimento dei bambini dove avete il cavallino tipo l'unicorno che gira così e gira 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 è sempre uguale non si diverte nessuno non ride nessuno perché? perché la velocità è costante dove sta il divertimento della giostra? è quando la velocità non è costante è quando la giostra accelera, rallenta è lì che ti sballi un po' la giostrina dei bimbetti è proprio una roba che forse ti piace a 5 anni poi non ti piace più quello però è un altro esempio di moto circolare uniforme oppure stupidamente prendete un disco i vinili, quelli che mettete sui giradischi quando iniziano a girare e prendono una certa velocità poi se li osservate con gli occhi proprio puntati dovreste vedere che il disco effettivamente continua a girare sempre con lo stesso ritmo cioè sempre con la stessa velocità non cambia mai non ci sono mai momenti in cui inizia ad accelerare o momenti in cui rallenta intendo mentre ormai la canzone è già avviata insomma questi sono tutti esempi di moto circolare uniforme è chiaro che realizzare il moto circolare uniforme non è proprio banalissimo nel senso che dovete proprio realizzare una circonferenza perfetta e fare in modo che la cosa che si sta muovendo si muova con una velocità che non cambia mai in modulo però in realtà è possibile alcuni di questi esempi che vi ho fatto vi dovrebbero far rendere conto che il moto circolare uniforme esiste in qualche modo nella realtà quindi mi raccomando però attenzione la velocità rimane costante ma solo in modulo non in direzione e in verso che invece sono caratteristiche della velocità che cambiano sempre quindi questa è la definizione di moto circolare uniforme spero di esservi stato utile in questo video ci vediamo al prossimo video sempre qui dall'OFT92 e sempre qui sul canale Zero G alla prossima ciao 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 ciao